L'arcivescovo di Catanzaro Vincenzo Bertolone è il nuovo presidente della conferenza episcopale Calabra. Succede all'ex arcivescovo di Cosenza Salvatore Nunnari che ha ceduto la diocesi per raggiunti limiti d'età. Bertolone, sacerdote nel 1975, è il postulatore della causa di canonizzazione di Don Pinopuglisi, il sacerdote assassinato da Cosa Nostra. L'insediamento del nuovo presidente della conferenza episcopale regionale arriva in una giornata importante per la chiesa calabrese. Proprio oggi infatti è stato pubblicato il documento sui riti religiosi popolari la cui stesura è avvenuta sotto la presidenza di Nunnari. Viene presentato come un documento di particolare importanza in una fase storica nella quale la chiesa, dopo la scomunica dei mafiosi pronunciata da Papa Francesco a Cassano all'Oionio, assume una posizione radicale di contrasto alla criminalità organizzata. Le indicazioni sulle feste popolari infatti sono maturate in seguito ai fatti portati dai medi all'attenzione della pubblica opinione riguardanti le strumentalizzazioni dei riti religiosi da parte delle cosche per affermare la propria influenza sui territori.